Grazie Direttore Nucifora l'abbiamo visto uscire dall'ufficio di Sebastiani Abbiamo fatto Cosa bolle in pentola Abbiamo fatto, questa è la santa e pura verità, mi devi credere Un incontro tra persone, dirigenti di calcio e operatori di calcio per parlare di calcio a 360 gradi Nessun, non c'è altro che questo, mi devi credere Un abboccamento A livello di amici, per conoscersi, ma soprattutto per parlare di calcio a 360 gradi Calcio d'Abruzzo, adesso altro non posso dire, ma a 360 gradi è preparato del calcio abruzzese Anche voi soddisfatti di questo incontro? Sicuramente è stata una bellissima chiacchierata Una chiacchierata che verteva soprattutto sul calcio Quindi il direttore aveva piacere di parlare con noi Come al solito noi siamo sempre disponibili per tutti E quindi ci mancherebbe che non fossimo con lui È stata veramente una piacevole chiacchierata Poi lui è un uomo di calcio, conosce il calcio, quindi fa sempre piacere Per quanto ci riguarda, noi siamo giovani e amiamo sempre imparare qualcosa in più Quindi da queste persone qualcosa si impara sempre È stata veramente una piacevole chiacchierata La domanda è questa, che impressione ha tratto? Ottima, ottime persone Ottime persone E io gli auguro di cuore che l'anno prossimo possano tornare in Serie A Sperando che anche quest'anno ancora c'è una minima possibilità che si possono salvare Ma comunque gli auguro tutto il bene del mondo perché sono persone che lo meritano Lo stesso Mucifora anche se sono passati un po' di anni da quando è stato qui a Pesca? C'è l'entusiasmo di un ragazzino, quello sicuramente ha tantissima voglia ancora di misurarsi ancora con il calcio Perché da qualche anno è fuori, ha fatto già bene a Pescara quando c'è stato È una persona con la quale io personalmente parlo spesso e lui è sempre protico di consigli Io e Daniele, come ha detto Daniele, sicuramente recepiamo al massimo i consigli delle persone Che comunque hanno fatto qualcosa nella vita Quindi vi siete lasciati magari con una stretta di mano Ma certo Una stretta di mano che potrebbe preludere A nulla A nulla A nulla perché ti ripeto La stima, la conoscenza delle persone Penso che sia la cosa più importante Non è solo lavorare per una società o meno Ma avere la stima della gente Che è importante calcisticamente parlando come dirigente di Pescara Per me è una cosa molto gratificante Era importante comunque conoscersi a fondo Conoscersi a fondo, poco a poco ci si conosce Un'ora e mezza Ma un'ora e mezza Ma un'ora e mezza Io parlavo di calcio a 360 gradi Del campionato di Serie A Del calcio abruzzese Dei campionati futuri Ma in generale Anche loro sono rimasti favorevolmente impressionati Ma questo non lo so Io dirò a loro Io posso dire che ho conosciuto le persone sinceramente Cioè non se l'aspettava quasi Non me l'aspettavo che fosse così eccezionale Ci può essere, non so Nel prossimo futuro Non so Uno spiraglio per arrivare alla concretizzazione di un accordo No? Ancora prematuro Io penso di essere stato molto chiaro col direttore Perché ho detto che al momento Noi stiamo ascoltando un sacco di persone Perché a mio avviso Non bisogna rifiutare a nessuno Perché il mondo gira E prima o poi come diceva qualcuno Ci ripassi Quindi bisogna ascoltare tutti quelli che in qualche modo Chiedono di essere ascoltati Per me è una persona sicuramente importante Una persona esperta Una persona che sta nel mondo del calcio Da tantissimi anni Che ha visto il calcio Quello anche più Se vogliamo più pericoloso Quello più messo male Perché non ci dimentichiamo che quando era a Pescara Quando è venuto a Pescara Veramente non aveva nulla E penso che abbia fatto anche bene Quindi Come diceva Danilo C'è sempre qualcosa da imparare Però in questo momento il Pescara deve pensare a fine del campionato Noi dobbiamo Anche riunirci la prossima settimana Per buttare giù un po' i progetti Quello che vogliamo fare E dopo cominciamo a ragionare Sui nomi Sulle persone Sull'allenatore Su un direttore Se ci sarà bisogno di cambiare direttore E tutte queste cose qui Adesso è prematuro Quindi ci fa piacere ragionare Confrontarci con chi Sa di calcio Perché comunque qualcosina Siccome non siamo refrattari Qualcosina impariamo Quindi va sempre bene Tutte e tre Ma lei adesso sta tornando a casa? Sì a San Benedetto San Benedetto Va bene La sua collaboratrice Patrizia che dice? Sempre qua La mia segretaria Patrizia che dice? Non vuole rilasciare interviste Va bene Però direttore lei è contento La vediamo Contento perché ho conosciuto Delle persone molto 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 in gamba E che il calcio avrà bisogno Per anni e anni di persone così Perché il calcio è in grande decadenza E solo personaggi con questo entusiasmo Posso riportare il calcio a certi livelli Comunque in questo momento è gettonatissimo Perché insomma ci sono tante squadre Che vorrebbero Appalersi della sua preziosa collaborazione È gettonatissimo Io penso di avere già un mezzo accorto Con una società di calcio Che non è il Pescara Quindi è un'altra società Non si può dire no? Si sa in giro Ma più o meno Ma ancora non è nulla di formalizzata Quindi ancora non è formalizzata Non dico nulla Però tu sai Tu sai bene Che io a Pescara Ho lavorato E ci ho lasciato E ha lavorato molto bene E ci ho lasciato il cuore Questa è storia Recente tra l'altro Grazie Grazie direttore In bocca al lupo Di nuovo Grazie a voi Arrivederci Quindi per chiudere Iannascoli Insomma Lo state valutando Con attenzione No L'abbiamo ascoltato Con tanta attenzione Non che lo stiamo valutando Perché lo conoscevamo comunque Però abbiamo ascoltato Quello che lui Teneva tanto a dirci Perciò L'abbiamo ascoltato Con tanto piacere Scusa Massimo Se interrompo Danilo Ma una battuta Volevo chiudere con una battuta A sentirlo con quella carica Soprattutto con quelle idee Soprattutto con Chiaramente lui Ha l'ultima esperienza di Pescara Dove veramente ha fatto Molto bene Con pochissimo E io e Danilo Ci siamo un po' Nulla a dire il bene Ci siamo rincuorati E ho detto Ma il prossimo anno Probabilmente Non spendiamo nulla